Un saluto dal Tg della mobilità, domani trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 proclamato dal sindacato Faisal Confail. A Roma l'agitazione interesserà le reti ATAC, Roma TPL, ATI, Autoservizi Troiani, SAP. Possibili stop dunque per bus, filobus tram metropolitane e per la Termini Centocelle. Sempre dalle 8.30 alle 12.30 possibili stop anche per le ferrovie Metromare ex Romalido e Roma Civita Castellana Viterbo gestite da Cotral. Nel Lazio possibili stop per le linee bus extraurbane che fanno parte della stessa rete Cotral. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.